Cari amici del canale YouTube Bottega di Platone, buongiorno. Nell'ambito degli studi sulla Kant Renaissance tra 800 e 900, ci occuperemo oggi di un pensatore straordinario, Ernst Kassirer, e delle indagini da lui condotte sulla funzione simbolica. Cominciamo a dire qualcosa di Ernst Kassirer, che si forma all'Università di Marburg, in particolare negli anni in cui vi insegnò Herman Cohen, altra figura importantissima della Kant Renaissance. Possiamo considerarlo Kassirer uno dei pensatori più influenti, sicuramente, della prima metà del XX secolo. Il suo grande progetto filosofico, qui intanto lo vediamo svettare con questa sua chioma bianchissima su Martin Heidegger che appare di fronte a lui come un anerottolo, dicevo che il grande progetto filosofico di Kassirer sarà quello di individuare per ogni ambito della cultura, con particolare riferimento al mito, all'arte e alla religione, quelle che sono le strutture universali che fondano la possibilità di queste discipline in quanto scienze. Kassirer era un agiato intellettuale di famiglia ebraica che, dopo gli studi con Herman Cohen, che abbiamo poc'anzi citato, concepisce un grande progetto di storiografia filosofica con cui vuol provare a ricostruire il problema della conoscenza così come è stato affrontato dalla filosofia e dalla scienza moderna. Un'opera ciclopica che lo impegnerà per quasi 40 anni e che prenderà l'aspetto di ben quattro corposissimi volumi, l'ultimo di quali pubblicato subito dopo la scomparsa dell'autore nel 1945. Abbiamo appena visto i quattro volumi. Kassirer concepisce il pensiero moderno come caratterizzato da un lento abbandono della concezione ingenua della conoscenza, concepita come un semplice specchio della natura nella mente dell'uomo, e il grande approdo che secondo lui c'è stato con il pensiero novecentesco ad una concezione critica, il cui padre ovviamente è Immanuel Kant, che vede nella conoscenza l'effetto di una operazione di selezione e riorganizzazione dei dati offerti a noi soggetti conoscenti dalla conoscenza sensibile. Il momento decisivo di questa trasformazione gnosiologica è rappresentato per Kassirer dalla rivoluzione scientifica moderna, che è caratterizzata dalla matematizzazione del mondo, operata da Galilei, da Cartesi, o poi perfezionata da Newton, quindi all'applicazione di strutture formali ai dati empirici, che diventerà un po', secondo Kassirer, la cifra del intero pensiero moderno. Con la pubblicazione dell'importante saggio intitolato Il concetto di sostanza e il concetto di funzione, che Kassirer pubblica nel 1910, quando insegnava già da qualche anno all'Università di Berlino, egli comincia ad impegnarsi anche in indagini filosofiche, non solo storico-filosofiche, ma squisitamente teoretiche, asserendo che, mentre per Aristotele al concetto si giunge per via induttiva, cioè astraendo alcuni elementi comuni da una pluralità di enti particolari e esprimendo questi elementi con un concetto che costituisce l'essenza o sostanza di un ente, la scienza moderna percorre invece la strada verso il concetto concependolo come una funzione, cioè come una attività che dà forma al molteplice sensibile, cioè potremmo dire che ordina le nostre rappresentazioni. Questa concezione funzionalista del concetto con la matematica di fine ottocento diventa formalismo. David Hilbert, che stiamo vedendo in queste tre immagini in tre diverse fasi della sua vita, a fine del XIX secolo dimostra infatti che i concetti della geometria hanno un significato puramente formale, cioè dipendente e definito dalle regole del sistema di cui fanno parte è totalmente indipendente dalla realtà sensibile. Acquisita notorietà internazionale nel 1919 Cassirer viene chiamato a insegnare nella nuova, recentemente istituita, Università di Hamburgo dove resterà fino al 1933 qui intanto lo vediamo con gli abiti del magister anno nel quale 33, gennaio 33 per le sue origini ebraiche sarà costretto dal nazismo a lasciare la Germania e ad emigrare infine negli Stati Uniti. Queste due immagini lo ritraggono insieme alla sua famiglia e ai nipotini durante il suo lungo soggiorno negli Stati Uniti che poi terminerà con la morte di Cassirer nel 1945. Negli anni di Hamburgo Cassirer accede spesso a un'importante biblioteca di scienze culturali che era stata fondata nella città dallo storico dell'arte Abie Warburg. Questa biblioteca raccoglieva e raccoglie tutt'oggi uno sterminato materiale su tutti gli ambiti dello scibile umano e la consultazione di questa biblioteca spingerà Cassirer a gettarsi nell'impresa di trovare i fondamenti cioè le forme universali che rendono possibile l'espressione dello spirito umano in questo modo estendendo il metodo trascendentale kantiano a tutti gli ambiti del sapere. Da questa straordinaria ricerca cassireriana nasceranno il primo volume nel 1923 il secondo nel 1925 il terzo nel 1929 i tre volumi della filosofia delle forme simboliche. Parliamo un attimo del pensiero simbolico. Per Cassirer gli umani sono sostanzialmente animali simbolici cioè individui portati a esprimere i propri contenuti spirituali attraverso dei segni visibili. La forma simbolica è per Cassirer quella energia dello spirito cito testualmente grazie alla quale un contenuto spirituale dotato di significato viene collegato a un segno sensibile concreto. E qui questo collegamento lo vediamo in modo molto netto molto chiaro. La forma simbolica è quindi una vera e propria funzione dello spirito che è in grado di dare veste sensibile a un pensiero. Senza una precisa realizzazione sensibile infatti il pensiero secondo Cassirer non potrebbe sussistere nel simbolo infatti il contenuto simbolico è strettamente unito al segno che lo esprime. Per dirla alla maniera di Schelling potremmo dire che il simbolo è tautegorico. La forma simbolica funge da mediatore tra soggetto e oggetto una mediazione nella quale il pensiero svolge un ruolo fortemente attivo strutturante e ordinatore rispetto ai dati provenienti dalla sensibilità. In questa sua mappatura accurata delle diverse funzioni fondamentali dello spirito grazie alle quali il soggetto dà forma sensibile ai propri contenuti spirituali Cassirer durante la sua lunga ricerca intensa ricerca è portato ad individuare tre funzioni di base la funzione espressiva che presiede secondo Cassirer alla creazione dei miti quella che Bergson più o meno negli stessi anni chiamerà fonction fabulatrice la funzione fabulatrice la seconda funzione individuata da Cassirer è quella rappresentativa da cui ha origine e organizzazione tra e organizzazione il linguaggio e la terza è la funzione che egli chiama significativa che organizza la conoscenza scientifica secondo Cassirer arte e religioni che sono funzioni simboliche altamente sofisticate derivano dal pensiero mitico quindi dalla cosiddetta funzione espressiva mentre la filosofia altra funzione simbolica sofisticatissima deriverebbe secondo Cassirer dalla funzione rappresentativa che dà forma al linguaggio in definitiva per Cassirer tutte le produzioni dello spirito umano dal mito alla scienza sono essenzialmente dei sistemi di simboli che più che rispecchiare i dati empirici danno forma ai dati empirici la filosofia delle forme simboliche di Cassirer si presenta quindi come una vera e propria morfologia dello spirito che è capace di ricondurre ogni ambito della cultura a una specifica attività formatrice dell'uomo salutiamo intanto questa lezione su Cassirer con questa bellissima immagine in cui il nonno Cassirer legge quello che sembra un libro di fiabe ai suoi nipotini uno delle quali una delle quali lo ascolta sicuramente incantata salutiamo così Ernest Cassirer e la Kant Renaissance e noi amici della bottega di Platone ci rivedremo ci risentiamo al più presto buona giornata a tutti ok